Ehi, voglio fare la pubblicità. Sì, vai a poi. Sì, sì, va bene. Comunque va bene. Eh, che certo. Sì, va bene. Senti, ci sentiamo dopo. Sì, sì, devo registrare. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Oh, facciamo un patto per il federalismo. Che è? È proprio il titolo con cui la Padania presenta l'intervista. La Padania presenta l'intervista a chi? Il segretario del PD Bersani. Bersani, alla Padania. Parla di un patto tra forze popolari per cambiare l'Italia. Pur con posizioni diverse, aggiunge il segretario del PD e anche l'alternativa, ci sono due vere forze autonomiste nel nostro paese, il PD e la Lega. Il PD è autonomista. Cioè, da quando ha deciso di vincere con la Lega. Quindi è bello, bello. Va bene anche che il governo rimanga nell'ambito del centro-destra. Pure. Cioè, nella serie, tipo, va bene pure se è una manazza in cui. Cioè, assicureremmo un'opposizione propositiva. Cioè, pure. Cioè, una volta, ti ricordi, nel 94 lo facevano, cioè, di nascosto. Non era davvero che non avevano il coraggio di farlo sotto al banco. Ora qua mi stanno dicendo, noi, pur di restare in Parlamento, ci accontentiamo di fare gli eterni secondi. E che rimanga un governo di centro-destra. Sì, sì. È acchiacciante. Ripeto, garantisco personalmente per me e per il mio partito. Il processo federalista deve andare avanti e aggiungere al compimento. Federalismo. Questo lo chiamano federalismo. Io dico la verità, io non ci credo. Perché se il federalismo è, come dire, chi stende le norme del federalismo, la gabbia per mettere assieme quelle norme, è un rappresentante della lega che ha già ammesso in una sua precedente legge di aver fatto una portata. Ora forse gliene vogliono far fare un'altra. E comunque non mi fido delle norme che vengono dettate da qualcuno che ha già detto dei napoletani sono topi da derattizzare. Lo diceva Geppels degli Ebrei. Una nuova produzione Merighi Troia. E' un secolo che aspetto, che il nano maledetto dal peso delle colpe sia costretto. Oh, costretto a dire mi dimetto. Il giudice è cosciente, la prova evidente e lo processa immediatamente. Lei è cosciente, la prova evidente. E' proprio adesso che il sultano sta perdendo il suo poter e quei razzisti della lega stanno per... sparir! Eccolo pronto lì, sto cazzo di PD. Capazzo ne morim. Sì, è così! E' colpa del PD se sono ancora lì la lega è mister B. PD, 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 PD E' colpa del PD se stanno ancora lì PD, 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 PD e resteranno lì per colpa del PD per colpa del PD Mentre l'Italia nega con Bossi e la sua lega che al meridione ogni diritto nega il paese il paese annega e il PD se ne frega Bersani è un ottimista si crede uno statista la lega dice lui non è razzista se lui è statista Bossi non è un fascista ma come può questo paese sollevarsi da dove se alternative serie ancora non ce n'è Sì, è colpa del PD è colpa del PD se stiamo ancora qui ho detto sì è colpa del PD se ancora mister B possiede tre TG TG, 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 TG e oltre a quei tre lì c'ha pure Minzoli TG, 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 TG e oltre a quei tre lì c'ha pure Minzoli è colpa del PD se stanno ancora lì e resteranno lì per colpa del PD